Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Eternal Se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video Ragazzotti, abbiamo fatto un po' di cose molto molto lezze e mi sono portato avanti Intanto ho sistemato un attimo la zona, come vedete più ordinata E praticamente ho rimosso uno di questi che era inutile Ma c'è un nuovo macchinario, c'è questo qua L'ho fatto in live, ma era veramente una cagata da fare, facilissimo Infatti queste qua sopra sono semplicemente slab Abbiamo un input di energia, un input di oggetti, insomma nulla di che Mentre questo qua è il Satellite Builder che stava in questo punto qui prima Allora, cosa serve questo nuovo qua? Serve processare i dati Quindi i nostri terminali di Satellite prendono i dati, li mettono dentro, anzi li mettevano dentro il dispositivo Input Output Poi qua dentro metto il dispositivo Input Output e scarico i dati nel computer Che andando appunto a accendere ora gli ho spenti questi qua e mettendo qua sotto un chip Va a elaborare i dati per avere ogni informazione riguardo a quella cosa che sto ricercando Che potrebbe essere un asteroide, penso anche i pianeti o robe simili Ora, perché ho detto che non utilizziamo più il dispositivo Input Output che sono questi qui, ne ho 10.000 Perché ho attaccato dietro questi cosi qua Stavo disperatamente cercando i cavi e in questa versione della mod i cavi non ci sono più Ci sono questi cosi qui wireless, molto molto meglio a mio parere Quindi i satelliti che noi abbiamo in orbita intorno alla Terra Automaticamente stanno buttando i dati qua dentro Data storage come vedete 3000 perché può contenere 3000 satellite Ma data 0, 0 ovunque Non perché sono inattivi Ma semplicemente perché i dati li stanno buttando qua dentro Però vorremmo dire, sì, ma qua è pieno i dati 2000, 2000, 2000 Dove li stanno mettendo? Non lo so, io so che tecnicamente un pochettino contiene anche i wireless coso Magari effettivamente siccome è tutto full potremmo anche perderli Quindi magari disattiviamo tutto quanto Perché effettivamente mi è venuto un pochettino il dubbio È pieno, dove stanno finendo i dati? Meglio non buttarli, a parte che sono così lenti che veramente prima che ne facciano grondi quantità rip Faccio prima buttarne altri nello spazio Poi lo faremo, poi lo faremo perché ovviamente c'è bisogno Anche se ho un po' di dubbi riguardo all'alimentazione Nel senso, se io volessi fare una mega parete fatta di questi E dietro ci sono i cosettini che appunto prendono i dati L'alimentazione dove cavolo la metto? Cioè, ok, c'è da rivedere un attimo il come li ho messi Ecco, ora invece sono sicuro che se questo qui è a 0 è perché appunto li sta sorbendo Infatti se levo l'estrazione vedete che qua sta scritto 47 Se invece riattivo l'estrazione qua sparisce Perché un pochettino questo cosa qui contiene, quello sì Ma non preoccupiamoci di questo Come ho già detto, questo macchinario qui che processa i dati Li processa solo se c'è un chip particolare qua dentro Ovvero il chip degli asteroidi Uguale identico a questo c'è anche il chip dei pianeti Quindi suppongo e penso e spero che possa trovare anche i pianeti e non solo asteroidi Ma mettendolo qua dentro, ragazzi, non funziona assolutamente Perché non funziona? Perché questo chip non è programmato Infatti noi dobbiamo puntare un asteroide Per poter esaminare la massa, la distanza e tutto per arrivarci Dobbiamo esaminarlo Come possiamo esaminare, ragazzi, un asteroide che non vediamo? Semplicemente riuscendolo a vedere Quindi oggi andremo a costruire un osservatorio, ragazzi Sperando che non sia troppo difficile Ovviamente è grande Gli osservatori piccoli non esistono Cioè, oddio, tecnicamente è già piccolo questo Però occupa molto spazio Come vedete vuole della Cisled Stone Che in verità suppongo che sia Stone e basta Tantissimi Database Ma che possono essere convertiti Perché vuole blocchi di Iron Database Power Input Ok, vuole un bel po' di cose Allora, come ho già detto L'avrei fatto in questo punto Quindi liberiamo un attimo di spazio qua E se uno si sta chiedendo Ma perché proprio qui Non c'è un perché È uno spazio libero E tutto sommato non mi dispiace metterlo qua Ok, ho rimosso tutta la spazzatura che c'era E vediamo intanto se c'entra Cioè, sicuramente c'entra Ma ne possiamo mettere due Decisamente no Cioè, nel senso Volendo sì Se questo qui No, vabbè Ma mannaggia la mongolfiera ragazzi Devo Secondo me sarebbe da levare la mongolfiera E magari qui Farci un pochettino di osservatori Eh, sì Come idea non è male Comunque No Lo voglio un pochettino più avanti Così direi che può andare bene Allora Cominciamo Vuole della Stone Io ho la Chiseled Stone Ma Beh, lui voleva No, ok C'ho anche la Stone normale Dai, usiamo la Stone normale Tanto penso che voglia questa in verità E qua c'è a dire una cosa Riguardo al motore In base al motore Noi possiamo esaminare cose più lontane Quindi mentre nei macchinari qua Ho sempre usato i motori d'oro Perché erano i più economici Qua andremo a fare il motore più potente Che si possa fare Poi Power Input Già lo abbiamo un Power Input No, non è vero L'abbiamo usato Ok, nada Ma lo possiamo Craftare subitissimo Così Ok E il coso dell'energia Glielo mettiamo Qua davanti Proprio dai Poi cos'è che vuole Dei Data Bus E blocchi di Iron Quanti Data Bus vorrà Non lo so Però in teoria è tutto convertibile Quindi tra blocchi di Iron Data Bus Ne posso mettere quanti voglio Suppongo E di Data Bus Ne ho veramente tantissimi Perché mi ero confuso Pensavo che Data Bus Fossero i cavi Pensando appunto Fossero facilissimi Da farete Eh, sto facendo un bocchio di cavi Invece ho fatto 16 Data Bus Completamente inutili Vabbè, poco male Ragazzotti Poco male Per il primo strato Ci manca soltanto il motore Quindi il più potente È l'Elite L'Elite si fa con Iridium Road Titanium Coil Che ne abbiamo tanti E Iridium Plate In poche parole Sì, ci mancano le Plate E le Road Ma l'Iridium Non è un nostro problema Nel senso Lo abbiamo Eccolo qua Quindi le Road Si fanno così Le Plate Abbiamo fatto il macchinario Buttiamo qua dentro Oh mio Dio Ragazzi So che si vede tutto strano Ho appena cliccato col destro Con questo Non dovevo farlo Potrebbero servirne altre in futuro Sapete che vi dico Io gliene metto a fare Altri 6 Così ci portiamo avanti E sbam Ecco Il nostro motore Il più potente mai fatto Perché realmente Non avevamo mai fatto Uno più potente di questo Quindi mettiamolo qui Secondo strato Vuole sempre Database Ovunque O blocchi di Iron Dentro sempre Stone Ok Allora Siccome di input Per la corrente In teoria Ne basta soltanto uno Non ne andrò a aggiungere altri E di Database Non penso Ne voglia veramente così tanti Quindi andrei a mettere Ovunque Iron Tranne qua Ragazzi Fermi tutti Che qua vuole L'Observatori Come blocco Dormiamoci su Prima Quello effettivamente Mi manca E penso appunto Che sia il pezzo principale Iron road Machine block Pannelli di vetro E user interface Oh mio dio E ci mancano i pannelli di vetro E' facilissimo da fare Ed eccolo qua Perfetto Quindi Piazziamolo subito E passiamo Al secondo strato Secondo strato Cheese Leadstone Sempre Ah ora vuole tutto Stone Qua Vetro E vuoto Ok E vetro O lente Dice Noi la lente Non le abbiamo Io spero che gli vada bene Pure il vetro Prossimo Stone ovunque E altro Vetro qui in mezzo Quindi cominciamo Con il vetro E in teoria Questo qui dovrebbe essere L'ultimo Sicuramente Ragazzi Ho sbagliato qualcosa Cioè è impossibile Che l'abbia fatto bene La prima Dai Altro strato Altro strato Sì Ce n'era un altro Stone 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 ovunque E vetro qui in cima Ok Non ne segna più nessun altro Ehm Lo accendo Funziona Funziona Ok Perfetto E' un po' Rotto Nel senso Con i data bus Messi qua Devo dire che Fa schifissimo Veramente fa schifissimo Perché E' tutta una struttura Multiblocco Sì Però i blocchi Realmente utili Li fa sbucare fuori In un modo orribile E noi la corrente Ce l'abbiamo in questo punto Che poi in verità Non è vero Perché Può uscire pure da qua La corrente Beh Fa un giro Un po' del cavolo Ma sapete che vi dico Io rimuovo questo E me lo porto di là Faccio prima così Oddio Che c'è qua sotto Aha Ma abbiamo Un mondo sotterraneo Qui Vabbè Freghiamocene Quindi prendiamo Un bel po' di enderpearl Le mettiamo qui Le mettiamo il coso Per farlo andare più veloce La corrente così Non gli manca mai E Proviamo A vedere che succede Quando ci clicchiamo Si sta caricando Osserva A una distanza Ragazzi Di 185 Se io avessi utilizzato I motori Quelli più schifosi La distanza Poteva addirittura essere Mi sembra Fino a 70 Detto questo Questi qua sono gli asteroidi Che posso osservare E questa è la loro composizione Io potrei scannerizzare Ma Consumiamo 100 dati Di distanza I dati di distanza Ragazzi Li abbiamo Qua dentro Sono quelli Che ha fatto Il nostro primo Satellite Che abbiamo lanciato Quindi Composizione Massa Distanza Andiamoli a mettere Quindi Suppongo Qua dentro No Vanno messi Qua dentro Ok Scarichiamo i dati Scannerizziamo E Sbam Ha trovato gli asteroidi Ora Qua dentro ci va messo Il chip Ragazzi Io questa cosa qui la faccio Solanto a scopo informativo Però No in verità non dovrei Perché consumo dati E basta così Cioè consumo chip Per nulla Cioè non è molto costosa Questa roba La posso rifare quando voglio Comunque andando a mettere qua Il chip asteroide Non programmato E poi andando a scegliere Un asteroide Ragazzotti Lo andiamo A rendere disponibile Per la ricerca Diciamo Mettiamola così E poi Messo nel computer Possiamo realmente Avere tutti i dati Per poi raggiungerlo Con un razzo O qualsiasi cosa Che va anche magari A pilota automatico A minarlo Ora c'è una cosa Che non capisco bene Nel senso Nel senso Perché è spento Accendiamolo Ah beh è vero Sono stupido Funziona solo di notte L'osservatorio Non si può osservare di giorno Quindi io forse In questo momento Sto osservando delle cose Abbastanza stupide Chi lo sa Non capisco come andare Nei pezzi di sotto Perché è vero Che qua sotto Ce ne sono altri Ma con la rotella del mouse Non funziona Le forcettine Non fanno nulla Non lo so E comunque Guardate Questo contiene Cobblestone Questo qui Contiene diamanti Oro E tutte queste cose qua Non è male So che ovviamente Molti materiali Non mi servono In questo momento Però Comunque ci sono Gli esteroi Più interessanti Magari posso Trovarci anche cose Molto molto più buone Io direi però Di aspettare Che faccia notte E vedere Che succede Intanto qui ovviamente Mi ha fatto fare Due scansioni E ha consumato I dati Quello che veramente Non capisco E che mi rode tantissimo E come andare sotto E do un'occhiata Nei config No direi che Decisamente Non c'è nulla di strano qua Sono tutte cose Riguardanti i veicoli I jetpack E l'RCS Che non so cosa sia Sembra Una radio Però sinceramente Ragazzi Cioè questo Questo asteroide qui Ad esempio Questo qua Fa un po' cacare Anche gli altri Ma questo qua Ha dieci blocchi Di diamante Cioè dice Dieci Più o meno Cinque Quindi Potrebbe essere Dieci Con un errore Di cinque Sia in negativo Che in positivo Quindi potrebbero essere Sia quindici Che cinque Suppongo Però cavolo Poi Tredici blocchi D'oro Nove di redstone Quattordici di smeraldi Cioè E' goloso E vedete qua Posso poi spostarlo così Cioè posso vedere tutto Ma perché di qua no E' rotto E' rotta questa roba E' rottissima Ho aspettato un pochino E sta facendo Notte Perfetto Proviamo quindi Ad accenderlo Tecnicamente Si dovrebbe Uh uh Si sta prendo Si sta prendo Che bello E quindi ora è pronto Per funzionare realmente C'è esempio Questo qua Che ok Va bene tutto Ma Non sarà eccezionale Sembra interessante Io lo scannerizzo No raga Non dovevo scannerizzarlo Che pirla L'ho resettato così Ops Eh questi mo fanno schifo però Oh Guardate qui Mentre scannerizzavo Cosa ho trovato Questo ha delle Rat Nugget Aria Arcane Technology Top Hat Little Qualcosa strano Asient Non so cosa E Essenza Di Peste Cioè ci sono Dei Dei Cosi strani E questo L'ho scannerizzato Proviamo a vedere Gli altri Raga Avete visto Alcuni asteroidi Sono molto Molto strani E tra l'altro Mi sa che sto per Finire Tutto Eh no Guardate anche qui Un altro Che roba E queste sono Della mod Della peste Che non so Cosa sia Forse è quella Dei topini Cos'è la razza In teoria Eh ma io Ho finito i dati Non sto più aggiorando nulla Ok Altri dati sulla distanza Mettiamoli qua dentro Scarichiamo E continuiamo No Nulla di buono Quello più interessante Di tutti Me lo sono fatto Scappare Proprio tantissimo Ma Non importa Ragazzotti Non importa Possiamo anche Chiudere qui Un giorno Lo ritroveremo Intanto ho ballato via Tantissimi dati Che spero di rifare Ora Qua abbiamo segnato Il chip Che ci interessa Per poter andare Su quell'asteroide Magari minarlo E tutto Dobbiamo ovviamente Esaminare tutto quanto Quindi Noi attiviamo Questi tre cosi Come vedete La ricerca è cominciata La ricerca della distanza Della luminità Della temperatura E tutto Ragazzi Questo qui è il modo Per andare Penso anche andare Ma se non è andare Comunque minare gli asteroidi E ottenerne I loro materiali È praticamente Una vera e propria farm Di potenzialmente Tutti i materiali Che si possono trovare Quindi anche una farm Volendo di diamanti Ora C'è scritto che la missione Ha un tempo Io non so quanto sia il tempo Però se mettiamo i razzi Quelli belli Tutto sommato Ci può stare Come cosa Ora Non ci rimane Che dare uno sguardo Un pochettino Più indietro Alla terra Allo spazio E effettivamente Se va bene Lanciare il prima possibile La nostra base Che sta qui dentro Nello spazio Non vedo veramente l'ora Anche perché Questa cosa qui Ci permetterà di Teletrasportarci Veramente In altre dimensioni In altri universi Intanto Questo come sta andando È lentino È lentino Devo dire Detto questo ragazzi Spero che questo video Lizzissimo In cui abbiamo costruito L'osservatorio Vi sia piaciuto Sicuramente ci tornerà Molto utile Detto questo Ciao a tutti Ciao a tutti